Benvenuti ad un nuovo unboxing! Come lo dici tu? Benvenuti in un nuovo video unboxing! Che andiamo ad aprire? Non lo sai? Aspetta! Allora andiamo ad aprire questa scatola, questo pacco, e vediamo che cosa esce da questo pacco. Andiamo ad aprire piano piano, altrimenti possiamo danneggiare il contenuto. Vediamo un po' di che si tratta. Vediamo cosa abbiamo comprato. Secondo me è l'ultimo gioco della playstation 4, uno degli ultimi giochi, anzi ho preso un po' di giochi per la playstation 4. Vuoi vedere? Come? Voce, voce! Anzi devo acquistare più presto un microfono, perché con quelli usati, con quelli del telefonino, non si sente niente. Andiamo a vedere cosa esce da questo pacco. Andiamo con un bellissimo unboxing! Come si dice? Un unboxing! vediamo un po'. Ecco qui, incomincia a intravedersi qualcosa. Allora, prima uscita, vediamo di che si tratta. Allora dicevo, ho preso dei giochi per la playstation 4, eccoli qua! PS4! Eccoli qua! Ho preso il gioco l'ultimo della playstation 4, che si chiama video pinball, vedi? Guarda che grafica stupenda, guarda! Vedi? Ecco la grafica. Bene, scherzi a parte, questo ho ordinato dei giochi per l'Atari 2006. Lo conosci? L'Atari 2006. È un vecchio gioco della mia epoca. Ho preso video pinball, poi ho preso haunted house, si dice così? Però è bello, guarda che grafica. Grafica, diciamo, la copertina è sempre... Stavo cliccando sulla foto per far sì che si vedesse meglio. Comunque, questa... Poi abbiamo Night Driver, Night Driver, Night Driver. Poi vediamo un po'. Vai, allora, andiamo a vedere adesso che c'è. Eccoli qua, eccoli qua. Cosa abbiamo qua? Abbiamo le famose cartucce. Mi sembra che si chiamassero così. Quelle che vanno nelle Atari, come ti dicevo. Vediamo un po'? Vediamo un po'. Eccole qua, vedi com'erano. Stupendo, Ghostbusters, vedi? Ghostbusters! Come fa la musica dei Ghostbusters? Non la conosci. Eccolo qua. Il gioco dei Ghostbusters per la Playstation 100, no, per l'Atari 2006. Vedete? Fanno schifo le riprese. Eccolo qua. Playstation 4. Infatti si inserisce qua nella Playstation, no, l'Atari 2006. Andiamo a vedere. Altro gioco. Abbiamo Ice Hockey. Il gioco... Il gioco dell'Hockey, sempre per l'Atari 2006. Bello. Bello, vedi? Questa qua, inserisci nella Atari. Poi andiamo a vedere altri due giochi, mi sembra, apriamo un po'. Un ciclato di gioco, infatti. Sempre belli. Voce, voce, che cosa si sente? Sempre belli, secondo me. Eccolo qua. Abbiamo qua un pezzo storico, ed è il famoso videogioco D.E.T. Questo qua, alcuni dicevano che era introvabile. E' in pratica tutta una sua storia, perché ad un certo punto, alcuni dicono che sia stato... Questo gioco di D.E.T. sia stato la causa del fallimento dell'Atari, perché non ha venduto abbastanza. Alla fine poi le copie rimaste le hanno sotterrate in un... mi sembra nel deserto in Texas, che poi a distanza di anni, sotto indicazione di qualcuno, forse dell'Atari, sono riuscite a trovarle ed erano effettivamente sotterrate queste copie. Quindi è la leggenda che diventa... diventa prima mito, poi in realtà. Eccolo qua. Diciamo, questo è un unboxing così, veloce. Poi abbiamo un altro gioco molto bello. Vedi? Questo è il kangaroo. Kangaroo. Vedi? Kangaroo. Il gioco del canguro. Non lo so come vuole lo scrivere. Ah, bravo, conosci l'inglese. Kangaroo. E poi sembra che abbiamo finito tutto, no? Abbiamo ancora altri libricini da far vedere. Andiamo a vedere i libricini. Purtroppo non abbiamo le custodie. Non abbiamo i cartoncini, le custodie dove mettere i giochi. E allora abbiamo anche... vediamo poi i libricini. Atari 2006, ecco qua. Guarda che bello. I cartoncini raffigurano... raffigurano la copertina, vedi? Lo so, forse non stavano tagliati proprio dai box. Peccato. Peccato non avere proprio i box. E poi qua abbiamo lo stupendo gioco, uno dei peggiori giochi della storia dei videogame, hanno detto. Che poi un giorno proveremo e facciamo anche un video. Ed è quello di E.T. Poi abbiamo... E.T. Non lo conosco. Il famoso film di Stime Spielberg. Non lo conosci? No. Andiamo a vedere quest'altro. Non l'hai sentito prima. Eccolo qua, purtroppo è tagliato. E.T. Poi andiamo a vedere la copertina di Kangaro, purtroppo è tagliata. Mannaggia. Non l'hai. Mannaggia. Poi abbiamo invece quello di Aisoki, che è buona. La copertina va bene. E sembra che ci sia tutto. Vediamo... Ah no, ancora altre due cassette. Vediamo un po' di che si tratta. Ah sì, abbiamo quello che dicevo prima, il video pinball. C'è una grafica semplice. Video pinball per l'Atari 2006. Poi andiamo a vedere quest'altro. Questo è Night Driver. è un gioco che se non vado errato, io comunque andavo nelle sale giochi come tutti, perché prima non c'erano le console a casa e andavamo tutte nelle sale giochi e ricordo proprio di questo gioco, il Night Driver. molto semplice, che poi un giorno vi farò vedere. Abbiamo preso tutto, non c'è più niente. Ah, c'è l'ultima cassetta ed è rotta perché è caduta. No, spero di no. Andiamo a vedere di che si tratta. Ed eccolo qua, Haunted House. Bellissimo. Grafica. A me piaceva molto, mi piacciono molto le copertine di questi giochi. Erano fatti proprio da artisti, da disegnatori, da pittori, diciamo, vedi? Haunted House. E adesso è davvero tutto, non ce ne sono più. Sono finite, c'è solo carta. Con questa ci si può accendere un fuoco o volendo anche utilizzarla per andare in bagno. Va bene. Bene, è tutto ragazzi, vi saluto. Saluto anche tu. Ciao. Ciao. Beh, alla prossima. Spero che questo video vi sia piaciuto. È stato un video così, ma che ironico, come possiamo chiamarlo. Un video così, fatto alla buona. In quest'epoca di video su YouTube iper montati, con tanti effetti speciali, casomai con un montaggio velocissimo che ti fa venire mal di testa, abbiamo optato per ragioni logicamente di comodo. Abbiamo optato per un video così, alla buona, ma che ironico. Vai. Bene, vi saluto e ciao, ciao, ghostbusters. Ciao a tutti, grazie. Mettete like, commentate, iscrivetevi. Grazie.